Martedì 21 novembre ci troviamo a Cosenza per un nuovo workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore, il titolo della giornata è il futuro dell'edilizia. Circa 200 progettisti hanno partecipato a questa giornata di formazione, tante le aziende che hanno potuto raccontare le nuove soluzioni tecnologiche presenti sul mercato. Allora vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Sicuramente delle idee molto molto interessanti, diciamo uno scambio diretto diciamo l'azienda che produce con l'architetto che è poi impegnato sul territorio per cui una diciamo un'esperienza che vada a crescere le conoscenze individuali di ogni singolo operatore fondamentalmente. Abbiamo cercato di trasmettere appunto questi nuovi prodotti, nuove tecnologie applicate nel caso nostro nel mondo delle scale per cui prodotti comunque di aziende che sono sempre impegnate continuamente in ricerca e sviluppo per quanto riguarda sempre il nostro settore per cui trasferire queste logiche che poi diciamo dovrà utilizzare la propria matita per inserirle all'interno dei propri progetti. Grazie. Grazie.